Voi siete i fratelli Cray, io ho detto a me stesso, George credo che questi ragazzi siano speciali, se questi ragazzi sono differenti, perché voi due fate paura ragazzi, potete credermi, vi andrà tutto bene. Chi li ha conosciuti non li dimenticherà mai. Sono i gemelli Cray, sono orgogliosa di voi, due perfetti gentiluomini. Reggi Cray, Ronnie Cray, siete fratelli? Sì. La loro arma era il terrore. E questo che cos'è, uno scherzo? Mi vedi ridere forse. Noi non ci combattiamo, noi restiamo uniti, ecco come diventiamo forti. Perdono mamma, con noi non si scherza, chiaro? No! E questo è niente. Così ottennerò il rispetto di tutti. Io credo che in te tutto sia differente, Reggi. Siamo pezzi grossi. Sono solo due stronzi. E questo è soltanto l'inizio. I fratelli Cray stanno ormai su tutti i giornali. Un rispetto difficile da mantenere. No! No! Se hanno paura di te puoi fare quello che vuoi. Fare paura è potere. Io vedo delle cose. Nei tuoi occhi. Mostre. Re! The Cray is un vincolo di sangue. La 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 Cray is un vincolo di sangue. Grazie a tutti.